Ciao, sa fate chi? Ciao tesoro, assommino a fare il corso per recuperare i punti ad la patente. E alle. Adessi gda anche la patente ai tipi acmeti. Abasta che ti paghi. E ti sa fate chi? Assommino a stare al me ambroso. Beh ma. Mi accadeva a chi ha chiesto l'ambroso. Pensavate che fosse lesbica. No ma. Cosa ha l'ho chiesto a me? Un bel cazzo. Cosa ha detto che l'ha chiesto a me anche un bel piolone? I messaggi quattro scatolette lì al non voglio niente sapere cosa c'è. E invece tatt pudrissi cattar bene con me. Si. Se ha chiesto da imballare della roba in garagio sarebbe utile. Assommino a fare da mangiare. Assommino a stirare. Vabbè a regalo un BMW. Attacchi sa essere più interessante. Ma la sen perdere va là. Ma perchè? E sgondati mi e vedi in cadame papà e gli dico. Papà a quest'chile almenovo ambrosso, un scatolone. Al ma da mandarà la tecata sul marcad al peste? I dopra mina i scatullon sul marcad al peste. Al limite i dopra i cassette ad plastica o ad pulistirolo. Ehi va ben, ah ma scuso se ho offeso i fachin. Comunque a ti è una rassista. Questo a ne niente, ta ma da vedre quando cago i mie robe. Ma nonostante tutto mi anamarendo mina, ah son convinto che col tempo a riuscirò a conquistarte. Vabbè tanti auguri, scoltami a te saluto chi è arriva al mio uomo, a vago che ha gong da depilarmi la pipa. Grazie. 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 Grazie a tutti